Spero che il film che avete appena visto vi sia piaciuto perché è bello, finisce bene, io invece vi porto all'inferno. Questo signore qua, David Cronenberg, è una persona che non sta per niente bene. Fa film che iniziano male e finiscono peggio. Ho veramente piacere che siate di buon umore, ho veramente piacere che siate di buon umore perché è uno dei miei registi preferiti. È stata una bella mattina e avete visto un film interessante, ma quello che vedete adesso, se ce la fate, se ce la farete a rimanere fino alla fine, vi lascerà di stucco. Perché questo regista è ossessionato da un paio di cose. La prima è il corpo, perché lui in tutti i film racconta di qualcosa che capita ad un corpo. La seconda è la realtà, perché da quello che sappiamo, da quello che studiate, da quello che impariamo quotidianamente, la percezione della realtà passa attraverso la percezione del nostro corpo. Dunque, quello che noi impariamo, quello che noi facciamo, quello che è il nostro stare nel tempo, passa attraverso il nostro corpo, che è l'unico strumento che abbiamo per riuscire a comprendere quella che è la realtà, ovvero la nostra stabilità nel tempo. Questo perché? Perché noi cresciamo, adesso io lo so che sembro brutto e vecchio, ma sono stato brutto e giovane. Ecco che allora, quello che ci dà il senso di identità, di appartenenza al tempo, di continuità, di essere noi stessi, tutte le mattine quando ci svegliamo, è proprio il nostro corpo. Ecco che questo regista invece non ci sta a questo ragionamento, dice e se il mio corpo mutasse e se qualcosa accadesse, ecco che allora il primo film di cui vi parlo molto velocemente è Videodrome, dove appunto il corpo del protagonista muta. Dopo aver visto una serie di filmati, nel suo cervello si creano delle allucinazioni per cui non riesce più a distinguere la realtà dalla fantasia e addirittura diventa una pistola e addirittura la pistola esce da un televisore che ha un tessuto quasi umano. Un altro film molto bello che vi invito ad andare a vedere, terribile, è Inseparabili con Jeremy Irons e racconta la storia di due gemelli che fanno i ginecologi e che, sì, è affascinanti, belli e si scambiano le pazienti perché hanno un codice deontologico abbastanza... Prego? Applauso! Questi due uomini che vanno d'amore e d'accordo andranno a scatafascio quando troveranno una donna con un apparato genitale particolare che li manderà proprio in crisi. E' molto meno erotico di quello che potete pensare perché l'ho espresso veramente male. Però appunto il problema è che il corpo muta la nostra sensazione della realtà. Un film bellissimo, uno dei miei preferiti è M. Butterfly. È la storia di un diplomatico francese che si innamora di una cantante che però non è una cantante ma è un uomo. Ecco che allora il gioco alla fine di trasformazione tra maschio e femmina è prepotente, è bellissimo perché c'è un continuo andare e venire in questi due generi. L'unico pazzo che poteva apprendere il testo psichedelico di William Morris di Pasto Nudo è proprio David Cronenberg che nel 91, se non ricordo male, crea Il Pasto Nudo. Un film che vi sconsiglio di vedere perché è veramente cruento e quindi voi oggi lo scaricherete sicuramente dalla rete. Quello con cui chiudo questa velocissima carrellata è proprio Existence. Voi vedrete appunto delle porte nel corpo che vengono forà, il corpo viene proprio forà, anzi viene sparata una porta in cui inserire una specie di cavo che però è biologico in qualche maniera e che comporta la partecipazione dei giocatori ad un gioco. Il problema è che fin dall'inizio non sapete se quello che vedete è quello che sta accadendo oppure nella realtà oppure fa parte del gioco e questa cosa vi perseguiterà fino alla fine tanto che appunto alla fine vi domanderete che cosa avete visto, qual è la cosa reale, via così. Per cui vi auguro una buona visione, vi invito a vedere i film di questo personaggio malato perché appunto è uno, naturalmente i suoi film non hanno grande successo ma sono veramente di capolavori perché ci lavora moltissimo. I film inseparabili adesso per esempio, quello di Jeremy Irons che fa il doppio ginecologo è stato fatto con lui che faceva le doppie riprese, adesso lo fanno con il chroma key, il CGI, quello che volete. Era veramente una sfida tecnica fare due gemelli 30 anni fa, ecco. Quindi vi invito a vederlo con attenzione, alcune scene sono paradossali, vi faranno ridere non vergognatevi di ridere di una pistola fatta con le ossa di pollo, che è la cosa che vedete. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona visione e vi amo. Grazie a tutti.